Quinta lui, io seconda, io terza. Quasi sta da Dio. Mazzò, è riuscito ad andare su. Guarda che tu devi andare su. Molto più brillante di lui. Sì, se no non vai. Vai, vai ancora 10, 20. Ti conviene aspettare che arrivi. Seconda o terza? Terza, hai un po' più di grip, però devi andare brillante. Perché se no non va su. E' normale. Tutto regolare. E' brava. E' brava. E' torna giù. E' brava, torna giù. E' brava, torna giù. E' brava, torna giù. E' un pochino la puoi sgonfiare. E' brava. E' brava. E' brava. E' brava, torna giù. E' brava. E' brava. E' brava. nuova e dura ancora dura dura ma tu cazzo l'hai gonfiata? eh c'è pure che si scopri cazzo è una gomma nuova e devo avere queste paure dura comunque vado è andato su meglio di me molto meglio di me non che ci vuole molto eh? eh? cosa c'è? eh io no tu scendi tu scendi dalle stelle lo scenderei io? sì è meglio e come torre? come vedi di sopra? no non vengo vi aspetto qua io ah torniamo indietro di qua va bene che l'emei eh